Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Oggi siamo su Sto Trasto 3.0 con Rinnegan che è qui sempre a fianco a me Guardate che bello che è Rinnegan Oggi facciamo la piantagione Rinnegan di Smeraldi Ma addirittura Sapete come mi sono accorto? In pratica io stavo, vedete, ero qui fuori, vedete che ho tolto il bacio Dove è la zappa? La zappa, che ne so io, fatela C'è una zappa Praticamente qua, vedete che ho tolto tutta l'erba In pratica togliendo l'erba, guardate cosa è successo L'ho messo nelle casse per farvi vedere Ho trovato, vabbè, i 51 semi di grano E abbiamo tolto fuori questi qui, gli Emerald Seed Cioè i semi di smeraldi Praticamente poi sono andato subito nella wiki E ho letto che con i semi di smeraldi, ragazzi Si possono coltivare appunto nella terra Nella terra, normale Quindi ho già preparato la terra, guardate che bravo che sono Vieni qua, Rinnegan Ti faccio vedere, vieni qua che tu sei il coltivatore per eccellenza Aspetta che non mi ricordo come si fa la zappa Trovate Sì ragazzi, muovite con quella cazza di zappa In pratica ragazzi, voi guardate Piantate i vostri bellissimi semi di smeraldo nella terra E dopo un po' ovviamente crescono Però visto che noi adesso abbiamo già delle osse Direi di fare un po' di farina d'ossa E li facciamo crescere subito così vediamo Allora ragazzi, qua ci sono le nostre bellissime ossa Andiamo a... No, per te posso fare così, giusto? Sì, perfetto Facciamo un po' di farina d'ossa, non troppa E adesso andiamo subito a far crescere quelle cose di... Guarda Rinnegan come sei preso Ah, nel commento avete scritto nell'ultimo video Che gli smeraldi non servono a nulla Sbagliato, nel Minecraft vanilla forse Ma qua nelle mode ricordo che io posso costruire Armature Oggetti Cose potentissime di smeraldo Adesso guarda Rinnegan Scusa, scus, 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 scusate Stai facendo? Ma poi questo è il gran cazzo come ne frega Di smeraldo? No Allora adesso andiamo qui Guarda Rinnegan, vieni qua Io tolgo, mi dà uno smeraldo e un seme di smeraldo Guarda, smeraldo, seme di smeraldo, smeraldo, seme di smeraldo Cioè guarda che bello Abbiamo smeraldi infiniti Non so se rendono l'idea Abbiamo smeraldi infiniti Porca puttana Sono veramente euforico Perché ho letto poi Quattrocentomila euro nel conto C'è fuori di testa In pratica ragazzi Cosa succede? Avendo la piantagione di smeraldi Possiamo costruirci tranquillamente La Guarda, butto via tutto E faccio pieno di farina d'ossa Allora praticamente sto dicendo Facendo l'armatura di smeraldo Abbiamo la stessa resistenza Dell'armatura in diamante Però dura per più colpi Ok, quindi può subire più colpi E in più ti dà un boost di velocità e salto Quindi questo vuol dire che siamo un po' più forti del normale Ok Ma non troppo Vorrei ma non posto E poi Oltre a quello Possiamo costruirci anche la Big Sword Detta così è brutto Però La spada grande ragazzi Perché mi sotterro ovunque Qui rinaga? Per più avere più spazio Sì vabbè sticcazzi però Non ci sto più In pratica ragazzi Con la Big Sword Fai 14 di danno al colpo Non so se mi spiego E in poi Possiamo incantarla Vi ricordo Possiamo anche incantarla Perché tutto Di questa moda è incantabile Aspetta ecco bravo prendi tu vai Ma perché mi tratta la spada? Scusa ho sbagliato Ancora Ma ti metti davanti Non sto a picchiarmi Ti ho dato con la mano Ti ho dato con la mano Vai via Guarda che stupido Ti ho dato con la mano Perché mi leggo la spada in smeraldo poi? Mi ha cassato la minchia Dai vai Voglio coltivare lo smeraldo ovunque Tanto io metti i semi Da poi rimetti tutto eh Aspetta un attimo che ho la farina d'ossa eh Fermo lì Fermo lì Ecco buttiamo un po' di farina d'ossa Facciamo crescere tutti gli smeraldi possibili Inimmaginabili Guarda che roba Eh non so Io già hanno già 13 nell'inventario Poi ne abbiamo ancora un po' nella cassa Che era avanzata dall'ultima volta Eh? Io ne ho 8 Tu ne hai 8 Io ne ho 13 Qua adesso abbiamo un bel po' Altri bel po' Guarda che li faccio crescere tutti Oh la Bello Il bello ragazzi Proprio questo Che quando tu li Guarda guarda Rinnegan come va veloce Con la sua zappa Il bello è proprio che ti dà il seme Cioè capito? Dandoti il seme non rimani mai senza smeraldi Per tanto è facile ricostruirli Cioè rifarli tipo Vai vai Rinnegan Io metto qua adesso Costruiamo Ragazzi Se ne frega del pane Basta Solo smeraldi Lasciateci un attimo di tempo ragazzi E dopo cercherò di craftare L'armatura in smeraldo Allora ragazzi Adesso ho 42 smeraldi Più ne avevo lasciati qua nella cassa E qui qua 7,49 Adesso andiamo a craftarci L'armatura in smeraldo Quindi Un'armatura qua così Poi Facciamo Le gambe Così Eccoci Poi la testa La testa La testa La testa E Aspetta No prima che faccio tutta l'armatura in smeraldo Sta buono Adesso Cazzo Sono stupido Allora perfetto Adesso Adesso vado a mettere giù un attimo L'armatura in diamante La metto nell'ultima cassa qua in fondo Anche non se la incula nessuno E mi metto su L'armatura Ecco Vedete mi dà un boost Mi dà velocità Salto ampliato E resistenza Quindi ho anche più resistenza ai colpi Andiamo un po' adesso a vedere Guarda guarda Sono già più oloce del normale Ma però E in teoria è infinita Cioè Infinita No Non l'armatura Cioè la La corsa La corsa Il salto ampliato Sono infinite Guarda che te la sto facendo anche a te Rinnegan No grazie Ok questo E riesco giusto giusto A farti un'armatura anche a te Guarda che bello E mi rimane uno smeraldo Guarda uno smeraldo Lo mettiamo giù Tanto là comunque Vieni in casa un attimo Vieni in casa Sto prendendo E tentare un attimo Il grano Ti aumenta anche la visione La visuale Visto Adesso praticamente ragazzi Andiamo a uccidere Visto che è notte Andiamo a uccidere un po' di scheletri Rinnegan Io li vedo Guarda che bene Praticamente adesso Non abbiamo l'armatura degli eroi Quindi non siamo immortali Sia chiaro Però Però Siamo più forti del normale Considerate che Ho già trovato un dungeon In cui andare Dove ci sono anche dei lupi mannari Ma questo lo faremo Il prossimo video È per questo che adesso Abbiamo deciso Guarda questo Chezzo di stronzo Qui piccolissimo Ehi Ehi Eccolo qui Uno scheletro Perfetto ragazzi Cosa cazzo ha ucciso Ho ucciso un verme Rinnegan Come un verme Perché uccidi sempre cose Ho ucciso un verme Un verme strano Tra l'altro Adesso uccidiamo Questo stronzo di ragno L'armatura cosa? Non è che Porta anche un debito Di cibo No Perché? Sto a me stiamo Ma perché stiamo correndo E lottando Scusa Vediamo Ci sono altri scheletri Oh Degli scheletri Perfetto Anche io sto morendo di fame E probabilmente Perché Muovendoci più velocemente Ci dà più fame Boh ma chi se ne frega Scusa Abbiamo la piantagione Cioè abbiamo 8000 panini Non ti rigeneri Vabbè ma chi se ne frega Ti mangi una bistecca Ok Boh Ho già preso 8 polvere da ossa Vado Sì 8 ossa Vado a fare la polvere Un attimo La farina Che polvere Sì La farina La posso fare qui Ogni volta mi dimentico Ho 24 farina da ossa Andiamo a vedere qua C'è nessuna ancora Vieni No ma tu continua A uccidere Vado già a coltivare qua Andiamo a coltivare Oh là che bello Smeraldi Smeraldi ovunque Già me li riprendo Scusate se è buio ragazzi Ma chi se ne fe Qua mettiamo questo Ok 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 E ripiantiamo i semi di smeraldo Cioè è troppo figa Sta roba cazzo Troppo 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 Allora mi ricordo Che la spada grande va fatta Con una spada piccola ma soprattutto Con dei blocchi di smeraldo Quindi adesso andiamo subito a craftarci Dei blocchi Ok tu vai a coltivare Andiamo a coltivare Vado a dormire a me così viene giorno Vieni a dormire dai Oh guarda che bravo Rinnegan che ha coltivato Tantissimi smeraldi Con la farina d'ossa adesso andiamo qui E prendiamoci tutti gli smeraldi Dopo li coltiviamo un attimo subito Tutto quanto E ti riesci presa anche tu Allora adesso devo andare un attimo in casa A farmi il blocco sicuro di smeraldo Per te Perché devo fare due spade di quelle grosse Devo fare due spade giganti si chiamano No 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 Tu continua a star lì Io vado in casa un attimo Con i miei smeraldini Ecco di qua 25 ne ho E andiamo a farci un altro blocco Perché non mi ricordo qualcosa serve sinceramente Tanto ci facciamo un bel blocco Ok Così ecco due blocchi Perfetto Adesso qua scrivo emerald Perfetto Voglio farmi ragazzi La big emerald sword La spada grassa Allora Allora Devo prendermi Intanto i bastoncini di legno Anche qua Non ho E sono qui Ne ho 64 Perfetto Adesso andiamo qui E clicchiamo sul punto di domanda Una E due spade Rinnegan Due spade Ne ho due Guarda Giusto giusto Mi sono avvenzati sei smeraldi Li metto giù Ma la cosa importante è che sei uforico Sono veramente uforico Guarda guarda Rinnegan Guarda 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 Guardate Guardate come Come è eccitato nel coltivare gli smeraldi To vieni qua Rinnegan Ho una spada per te Arrivo Arrivo No no purtroppo Arrivo Sì ma non sto a farmela buttare Vieni qua E sono qua Vieni qua To Tieni Spadona in smeraldo Perfetto Adesso questa la metto qua Questa la metto qua Perfetto Adesso abbiamo La big emerald sword In più ragazzi In più Ho letto Ma comunque Sai quella cosa più biga Cosa Che non ti danno Un seme Eh no Ti danno più semi Ti danno due Ti danno due semi E un blocco di smeraldo E un pezzo di smeraldo In pratica ragazzi Adesso questa spada Toglie guardate Quattordici danni per colpo In più ho letto Che se noi craftiamo anche Gli strumenti Tipo il piccone Che adesso andrò subito a fare Per provarlo Sono come quelli in diamante Però durano di più E sono più veloci Quindi riusciamo a rompire i materiali Molto più velocemente Adesso ho due blocchi Eh no Cosa c'è Dammi gli smeraldi Non potete esagerare gli smeraldi Tu dammi gli smeraldi Che vado Ecco Buon bastano questi In teoria Buon perfetto Vado a craftare Due picconi E andiamo subito In miniera a provarli Giusto E così Uccidiamo anche qualche duno Con la spada Se troviamo mostri Allora Così Così Uno Qua Uno qua Uno qua Uno E due Ecco Uno per Rinegan Uno per me Adesso metto giù gli smeraldi Metto giù Lo schifo Ok Rinegan Andiamo in miniera un attimo Zombie Tan 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 Oh Senza fare il critico ragazzi Tolgo 15 al creeper Non so se mi spiego Buon E Vieni giù Rinegan Nella miniera Spacca anche la piega Guarda che roba Ragazzi Ora vi faccio vedere io Guardate Guardate la pietra rossa Tipo pam 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 La pietra si rompe In una maniera assurda Ma anche la pietra rossa E considerate Che ha la stessa durata Di un piccone in diamante Però è molto più veloce Quindi adesso riusciamo A A scavare anche Molto più veloce Ci muoviamo più velocemente Saltiamo più velocemente Facciamo più danno Scaviamo più velocemente Guarda qui Che cazzo c'è qui Io vado avanti Quelli qua intanto Tu vai dove vuoi Io vado da questa parte invece Ecco Purtroppo Non sono come le armature Quelle dei supereroi Vabbè ma ci sta dai Non siamo immortali Però però siamo Oh guarda cosa ho trovato Del ferro Sì dell'oro Dell'oro E ti ricordo che l'oro ci serve Sì perché dobbiamo fare Dobbiamo chiamare Stanley Dobbiamo No 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 Quel vibranio Unito all'oro e al ferro Ah sì Facciamo l'armatura di Wolverine Però questo lo facciamo più avanti ragazzi Perché ci serve appunto Dobbiamo andare un po' in Wakanda In questo piccone Scavare come se non ci fosse un domani Oh guarda che ho trovato qua No cos'è questo Fermo Questo è titanio Oh perfetto Ragazzi siamo venuti a uccidere un po' di mostri Ma abbiamo trovato Stanley Che gira per il nostro deserto A caccia di supereroi Bom adesso andiamo a prendere A uccidere sto cazzo Guarda che bello Guarda che bello Andiamo a dare qui Pam 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 Critical Critical No devo fare un critical Vedo quanto toglie quel critico Quanto cazzo tolto Non leggo Boh vabbè Però l'ho ucciso L'ho ucciso male proprio Pam 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 L'ho ucciso con un critico Ma che vedi di danno Mi ricordo bene In più Ah si ho letto Rinnegan che il Tesseract In teoria serve per Andare nel mondo di Asgardian Cioè nel mondo di Thor Capito Senza essere un Asgardiano Guarda questo C'è l'armatura Questo fa brutto Con l'armatura Ma toh Io c'ho la big sword Ragazzi Guardate 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 Che belli Allora Aspetta che metto Una torcia Aspetta Come faccio a mettere Una torcia Ecco Se il video vi è piaciuto Ragazzi Lasciate tanti Mi piace Ci troveremo qui La prossima volta Per andare Nel dungeon Dove ci sono i lupi mannari Mi raccomando Lasciate tanti Mi piace Ciao a tutti Al prossimo video Ma vaffanculo